Allora, in questo che è il terzo appuntamento conclusivo di questa trilogia di mostre, Ettore Spalletti ha, nelle 17 sale del terzo piano che ospitano la mostra Madri di Napoli, concentrato l'attenzione sul costruire un racconto su 40 anni di carriera, per cui ci sono tantissime opere che costituiscono dei passaggi fondamentali all'interno della sua carriera, quindi a partire da foglio, presenza stanza, contatto, colonna di colore, mobili, quindi una forte concentrazione di opere storiche che segnano dei passaggi fondamentali alla sua carriera, un essere in dialogo con invece opere dei decenni successivi fino ad arrivare oggi, fino ad arrivare anche a un'installazione pensata per gli spazi del Madri, quindi c'è questa propria idea di legare diversi aspetti del tempo, ma anche di annullarne, come dire, la cronologia come in dinerità. Ettore ha lavorato moltissimo sulla luce, per esempio, sulla luce quindi attraendo moltissime finestre che erano rimaste chiuse nel tempo e quindi creando, come dire, interpretando l'architettura di Alvaro Suse, che lui ha amato moltissimo, come una membrana tra l'interno e l'esterno. In questo, quindi, come dire, lui che è proprio un artista che lavora sul concetto della luce, sulla relazione col paesaggio, ha accolto, come dire, il paesaggio circostante, quindi la luce di Napoli, il cielo, l'azzurro di questo cielo, e lo ha messo in relazione con le sue opere, quindi ha costruito un percorso molto sensibile, fatto anche, come dire, di vuoti molti significativi che si alternano invece, per esempio, con dei passaggi più densi, cromaticamente e percettivamente più densi. Un anno straordinario in cui ho avuto la possibilità di confermare a me stesso la straordinarietà della scena culturale artistica, la vitalità delle intuizioni, delle emozioni, delle idee, delle forme, dei colori, delle musiche, dei racconti di Napoli, che è uno storico crocevia delle arti contemporanee, una grande capitale internazionale della contemporaneità. Napoli mi ha sicuramente dato tutta la sua storia e tutta la ricchezza di questa storia e per quanto riguardava il sottoscritto come direttore della Fondazione Donna Regina, quello che ho cercato di dare è una risposta a questa storia straordinaria, alla capacità di queste sale meravigliose, ristrutturate da Alvaro Sizza, di rendere in qualche modo giustizia questa storia, e quindi una collezione permanente che è in progress e che cerchi di raccontare le tante articolazioni, i tanti livelli, le tante individualità, le tante collettività di questa storia straordinaria dal 65 al 2014 per quanto riguarda il limite temporale che questo museo ha e di dare nello stesso tempo giustizia attraverso il programma espositivo a una certa storia dell'arte italiana fatta di grandi maestri di cui ci ricordiamo o di cui non ci ricordiamo forse con dovuta attenzione, veri giganti per tutto il mondo e quindi per esempio Vettore Spalletti oggi, per esempio Vettor Pisani in queste stesse sale fino ad alcune settimane fa. Sicuramente il corbismo del museo, le mostre, la collezione, le pubblicazioni sono quello che nello sforzo comune di tutto il team di lavoro del madre ha dato il senso di un museo che c'era e che c'è e che ci sarà. Indubbiamente credo che bisogna lavorare sul coinvolgimento dei pubblici, da quello digitale a quello del territorio, a quello nazionale e internazionale in forme diverse perché ci sono nuovi bisogni culturali, nuove modalità di interagire con il museo che una volta che ha messo a punto quello che sa fare, secondo me deve iniziare a fare anche quello che potrebbe fare e quindi lavorare in modo più ipotetico, più performativo, introiettare, mettere al suo interno la grande vitalità di tutte quelle articolazioni delle arti e quindi dei pubblici che in questa città si sono depositate e nello stesso tempo intercettare nuovi bisogni, nuove storie, nuove narrazioni quindi lavorare realmente ancora più a fondo di quanto abbiamo potuto fare in quest'anno a performare il museo, che è un po' la parola d'ordine che ci siamo dati, cioè a renderlo... Non è un caso forse che proprio interrogandoci su questo, per esempio una delle cose che vorremmo fare è produrre una soppopera per il museo, una narrazione come direi adatta a parlare al largo pubblico che magari non ha nessuna intenzione oggi di passare con la soglia simbolica di via Settebrini di entrare al museo, ma che se il museo usa tutte le sue potenzialità di narrazione può far sì che questa sua storia vada là dove tendenzialmente non potrebbe arrivare io sono convinto che stiamo vivendo per le istituzioni un momento in cui probabilmente è il caso di riversare il re di me di Duchamp invece che prendere l'urinatoio e mettere nel museo questo oggetto provocatorio forse la provocazione culturale del museo deve andare fuori da se stesso nelle strade, nelle case, nelle televisioni, nelle radio, cioè usare l'intelligenza, la fantasia del museo uscire da se stesso con questa ricchezza e intercettare tutti quei bisogni, tutti quei desideri perché Mad Men è un programma bellissimo, Breaking Bad è un programma bellissimo e allora forse noi dobbiamo imparare perché hanno successo queste grandi narrazioni contemporaneali e fare un po' lo stesso, cercare di andare fuori con il nostro palinsesto televisivo con i nostri personaggi, con le nostre storie e intercettare tutte quelle storie tutti quei pubblici che sono fuori e su questo io credo che per performare realmente il museo dobbiamo iniziare ad impegnarci da oggi ai prossimi anni